... Bernie prepara cose buone che arrivano da una natura incontaminata e ha coinvolto cuoche e cuochi sia professionisti sia amanti della buona cucina che ogni giorno utilizzano materie prime di alta qualità Chiamo Fabrizio Bernardini, ci troviamo a Lerici, all'Osteria del Ghetto Il piatto che vi presento oggi è un tortino di baccalà alla Ligure Gli ingredienti sono baccalà, patate, capperi, olio extravergine e passata di pomodoro Partendo da un filetto di baccalà lo andiamo a scaloppare per ottenere dei velli sottili di baccalà Affettiamo una patata, la cuociamo precedentemente in forno e dopo andiamo a assemblare a strati il baccalà con le patate a fette Condiamo con olio e pepe bianco Rimettiamo in forno, 10 minuti di cottura Nel frattempo facciamo andare la nostra passata di pomodoro la prepareremo a specchio nel piatto e quando il tortino sarà pronto la legeremo sopra la passata Don't ask me how I know Cos' 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 I know Grazie a tutti